Crisi idrica rientrata grazie ai temporali degli ultimi giorni. Resta tuttavia l'emergenza in alcuni comuni dell'Aquilano, quali Bariciano. Il problema resta quello degli attingimenti notturni per annaffiare orti e giardini. All'Aquila il sindaco ha emanato un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua per l'irrigazione. Fa il punto della situazione il presidente della Gran Sasso Acqua, Merico Di Benedetto. È vero che in alcune circostanze, a prescindere dalle ordinanze fatte dai sindaci per l'uso solo potabile dell'acqua, abbiamo dovuto fare qualche piccola chiusura notturna che non crea disfunzione al servizio che noi diamo ma che permette di avere l'acqua poi durante le ore in cui è indispensabile avere. Noi abbiamo fatto un lavoro molto importante sulle adduttrici, ci stiamo lavorando da anni. Il nostro obiettivo è quello di renderci indipendenti utilizzando l'acquedotto del Gran Sasso e l'acquedotto del Chiarino che insistono sul nostro territorio e quindi liberarci da quegli acquisti che ancora oggi stiamo facendo. Fra i problemi legati all'Aquila anche la presenza di Salmonella che continua a rendere difficile la vita di molti agricoltori. I depuratori sono a posto, ribadisce Di Benedetto. Il problema è costituito dagli scarichi abusivi. Stiamo investendo molto, tra l'altro abbiamo avuto anche un finanziamento di circa 10 milioni di euro per sviluppare, ampliare e migliorare gli impianti di depurazione. È chiaro che però noi non abbiamo piena padronanza di tutta la situazione fognaria. La Salmonella non sta negli impianti di depurazione, arriva agli impianti di depurazione e la Salmonella non si combatte solo attraverso la sistemazione degli impianti di depurazione lì dove non dovessero funzionare, non è il caso nostro. Si combatte a monte cercando di capire qual è la motivazione dell'essere umano nella nostra realtà, la Salmonella e purtroppo si trasmette e inquina attraverso situazioni che possono essere anche di singola portata che sono quelle di alcuni scarichi abusivi che vanno a finire sulle aste fluviare e quindi vanno a compromettere tutto un lavoro importante fatto.